Negli ultimi 7 giorni le criptovalute non si sono mosse moltissimo, abbiamo visto una price action molto molto scocciante Bitcoin ha tradato tra i 58.000 e i 61.000 all'incirca e vediamo che i volumi anche sono davvero ai minimi questo poiché siamo ad agosto, questo è normalissimo in estate, anche se sta per iniziare una settimana molto importante soprattutto dal punto di vista macroeconomico e voglio spiegare perché questo è importante, perché dobbiamo seguire questo evento che sta per accadere voglio aggiornarvi anche per quanto riguarda CRO, il prezzo in questo momento è una situazione molto rischiosa possiamo dire siamo sui 0.085 e ci stiamo avvicinando a un supporto davvero fondamentale per il prezzo che deve assolutamente essere mantenuto detto questo adesso iniziamo, però prima di iniziai ragazzi un mi piace, basta un click e il gioco è fatto se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale per non perdervi nulla perché cerco sempre di aggiornarvi ovunque io sia nel mondo detto questo CryptoWavels, questa è la situazione, le cripte non si sono mosse moltissimo a parte qualche nome che è in verde con un più 3-4% qualche altcoin meno capitalizzata, poi c'è Ton con un più 7% che ormai è al numero 8 tra le criptovalute più capitalizzate e questo è super interessante, però in generale vediamo che la market cap è su 2 trilioni di dollari, potremmo scendere anche al di sotto se continuiamo così, volumi solo 48 miliardi di dollari, è vero che oggi lunedì riapriranno i mercati, ci saranno più volumi, questo è poco ma sicuro e soprattutto ragazzi volevo aggiornarvi sulla Fed, prima di continuare e parlarvi un attimo di qualcosa di bullish volevo portarvi questo perché ci sarà la conferenza annuale delle banche centrali di Jackson Hole questa settimana e Jerome Powell, il presidente della Fed, è atteso per un discorso programmato il 23 agosto dove si prevede possa fornire indicazioni importanti sulla direzione futura della politica monetaria con l'inflazione negli Stati Uniti che continua a scendere, molti analisti ritengono che ci sia una forte probabilità di un taglio delle tasse di interesse già a settembre e quindi questo è importante per capire che se venissero tagliati finalmente questi tassi di interesse per il lungo termine, questo significa ad esempio fra 5, 6 mesi, 7 mesi più liquidità sui mercati questo è quello che volevo dirvi prima di passare le notizie bullish per quanto riguarda le criptovalute questi qui sono alcuni cicli di Bitcoin dal 2011 fino al 2024 e come ben vediamo ad esempio 2011-2022, come ben si vede qui, abbiamo visto una fase di consolidazione prima di vedere uno spike parabolico, poi abbiamo visto nel 2014-2016 lo stesso, fase molto scocciante di consolidazione fase di pump assurdo, lo stesso 2019-2020, è vero c'è stato lì il crash del covid, però lo stesso abbiamo visto una fase molto scocciante e poi una risalita molto prepotente verso l'alto è lo stesso ragazzi adesso, come è successo in passato, vediamo una risalita del prezzo di Bitcoin vediamo una fase scocciante come questa qui dove niente succede in particolare stiamo sempre allo stesso range da fine febbraio 2024 e potremo assistere a una zona, diciamo, una parte in cui il prezzo di Bitcoin sale alle stelle questo porterà con sì anche le altre criptovalute però ragazzi prima di continuare voglio un secondo parlarvi di Aevo perché è una piattaforma molto interessante, ho già creato delle menzioni al riguardo e adesso voglio parlarvi delle strategie come al solito tutti i capitoli sono qui in basso nel caso in cui non siate, diciamo, interessati potreste saltare la menzione Aevo è un exchange decentralizzato che permette di fare tante cose interessanti già vi ho parlato della sezione Airdrops la settimana scorsa adesso voglio parlarvi della sezione strategie perché in questo momento c'è una strategia molto interessante per registrarvi da Aevo basta cliccare dal link qui in basso in descrizione è un link affiliato, avete 10% di sconto sulle fees per sempre quindi un'ottima opportunità e in questo caso abbiamo la sezione strategie come ben si vede qui ragazzi questa strategia allo specifico ha registrato un più 20% nell'ultimo anno e soprattutto questo è un dato che può cambiare ovviamente non è sempre fisso, non è sicuro che sia sempre questo come ritorno, come percentuale abbiamo un amount di soldi, di dollari bloccati in questa strategia di 600.000 dollari e in poche parole è molto semplice, vanno ad aprire una posizione long sullo spot su Ethereum come vediamo qui in basso è una posizione short sempre su Ethereum in questo caso però sui contratti futures quindi si va long e si poi copre con uno short su Ethereum per questo il rischio è molto basso perché c'è sempre questo balance tra short e long ovviamente ci sono dei rischi come indicato anche qui basta cliccare sulla sezione rischi però il drawdown massimo è stato dello 0.7% quindi il livello di rischio è molto basso per questa strategia è un'ottima opportunità ragazzi perché basta semplicemente depositare USDC basta avere un account sulla piattaforma mi ripeto è un exchange decentralizzato in questo caso c'è fu anche il listing su Binance del token sulla sezione launch pool io creai un video al riguardo quindi stanno riscolando il successo abbastanza importante è un successo abbastanza importante e vi ripeto tutti i link sono qui in basso in descrizione nel caso dategli assolutamente un'occhiata è una strategia che può interessare a molti se avete qualche dubbio al riguardo fatemelo sapere nei commenti come al solito vediamo qualcosa di bullish per quanto riguarda Trump contro Kamala Harris negli Stati Uniti Trump ha guadagnato il 3% Kamala ha perso il 2% 49% contro 50% per ora sempre Kamala Harris democratici è in vantaggio adesso però voglio dirvi che io non sono pro Trump o pro Kamala Harris dal punto di vista politico non voglio espormi però Trump da questo punto di vista adesso ragazzi è per noi sostenitori delle criptovalute gli Stati Uniti sono un mercato importante Trump è positivo perché sta parlando delle cripto ormai da tempo vorrebbe fare qualcosa di davvero importante per questo sono pro Trump per quanto riguarda le criptovalute speriamo che ciò accada e che riesca a riprendersi il vantaggio poi si parla ormai di diciamo di agosto come mese scocciante a settembre anche si rientra dalle vacanze pian piano e si rientra anche a investire e quindi si parla ovviamente di ottobre come uptober ragazzi quindi mese in cui il prezzo di bitcoin tende ad andare in alto fino a dicembre ci sono le vacanze si investe ci sono più soldi quindi verranno periodi migliori dovete solo tenere duro e voglio parlarvi un secondo prima di staccare ragazzi di crow perché vediamo che siamo sul livello importante importantissimo direi dobbiamo assolutamente mantenere questo livello perché se perdiamo i 0.08 abbiamo visto un fake out qui in basso dove il prezzo è sceso ai 0.07 in nulla e visto che stiamo creando un pattern diciamo ribassista in questo caso dove i volumi sono molto bassi mi aspetto forse una discesa di crow anche sui 0.05 di nuovo 0.05 se continuiamo in questo modo abbiamo visto i volumi bullish qui per quanto riguarda la notizia della champions league però anche se ci sono stati i volumi bullish il prezzo non si è riportato su livelli assurdi e un minimo di volumi bearish il prezzo scende come il burro quindi questo fa capire che crow è diciamo molto molto bearish ultimamente ma anche altre criptovalute se prendiamo ad esempio lungo prendiamo shape prendiamo brett prendiamo tutto il resto tranne qualche nome tranne xrp oppure qualche meme coin oppure ton eccetera tutte le altre criptovalute che seguo sono in una situazione simile e potremmo assistere a altri ribassi se non vediamo volumi positivi che rientreranno sicuramente solo questioni di tempo detto questo ragazzi date un'occhiata anche ai bonus che sono qui in basso in descrizione ci sono tantissimi bonus interessanti per quanto riguarda big get c'è il mio link di telegram ufficiale qui in basso c'è la promozione che permette di ricevere 500 dollari in posizioni futures su bitcoin usdt quindi ottimo diciamo promo fino al 31 agosto 2024 trovate il link qui in basso in descrizione dategli assolutamente un'occhiata noi ci aggiorniamo prestissimo con la prossima avventura ciao a tutti ragazzi e buona giornata sarò in vacanza ragazzi sarò in cina per 15 giorni all'incirca quindi cercherò di pubblicare qualche video da lì come al solito cerco sempre di aggiornarvi ovunque io sia però non sarà un video così diciamo interattivo anche se cercherò di dirvi la mia se succede qualcosa di importante ciao a tutti ragazzi buona settimana a tutti ciao a tutti